Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Oggi un altro video in cui vi mostro l'ultima mia creazione Che è questa agenda a tema fatine Che ho fatto per la figlia di un mio collega Voglio farvi vedere anche Delle tazze che ho realizzato E sto pensando di insemetterle sul mio negozio Etsy Adesso vediamo Allora, ho praticamente decorato queste agende Che avevo preso da Tiger Sì, queste agende Queste tazze Con il vinile oro Allora, questa con la scritta Coffee E mi piace tantissimo Poi Questa con l'unicorno e la scritta Magic Anche questa mi piace tantissimo E la terza Quella sui toni del rosa Con la scritta Planner Girl E il diamante Adesso devo vedere un attimino Sto valutando se metterle sul mio negozio Etsy Oppure no Tornando all'agenda invece che ho fatto a tema fatine Ci spostiamo sulla scrivania così in dettaglio Vi faccio vedere come ho creato E che cosa ho creato per questa agenda Allora, eccoci qua Allora, la copertina Sempre fatta con un cartoncino Rinforzato e poi plastificato Con l'inserto del feltro Quindi cucito a mano Incollato e cucito Qui ci sono i rivetti per la barra d'anelli E dietro abbiamo ancora qui la parte della cucitura E l'altro cartoncino Quindi questo qua ho scelto una fantasia A tema fatine Perché appunto è per una bambina Ho scelto il colore Questo colore tipo verdino Tiffany Verdemente Perché stava bene comunque con la copertina La chiusura è fatta così Con il bottoncino Il bottoncino è lo stesso colore del feltro Si apre ovviamente in questo modo E all'interno troviamo Allora, delle paperclip Che ho fatto questa Con questa fatina plastificata Davanti e dietro Su una clip bianca Questa su una clip blu Di questa fatina con le farfalline Sia davanti che dietro E infine ho messo questa Con l'omino che avevo preso da Tiger Qui come al solito abbiamo una tasca Quindi oltre alle tre piccoline C'è anche questa grossa Dove si possono inserire le cose E io ho inserito come al solito I quattro foglietti Con su tre mesi di numerini Quindi numerini pretagliati con il plotter Poi la barra d'anelli è questa argentata Quindi sempre il solito che si apre Con il meccanismo E si chiude E poi abbiamo il primo divisorio Che è questo cartoncino Con i toni del verde Dove ci sono gli uccellini Le foglie Molto carino E nella prima sezione abbiamo La vista mensile Quindi ho fatto il mensile Con questa fatina E poi la solita tabella Quindi 12 mesi Con la tabella del mese Quindi non sto a dilungarmi tanto Perché è il solito metodo Che faccio io per fare i refill E alla fine dei 12 mesi Abbiamo questa fatina Il secondo divisorio Che mi piaceva molto Comunque a tema fatine È questo rosa Con disegnate le coroncine Fatto a rombi E da qui inizia poi La vista settimanale Quindi ogni mese Dove c'è la settimana Su ogni settimana Ho riportato la fatina E come solito Ho preparato i tab I tab con il tema della fata Come potete vedere Quindi il tab Con la scritta del mese E le fattine disegnate E anche dietro è così Poi c'è il segnapagina Sempre che si stacca E si inserisce Con il righello Quindi davanti è come la copertina Dietro invece è bianco Quindi poi ogni mese Finisce con il disegno Di questa fatina E poi ricomincia Quindi via tutti E 12 mesi Poi il terzo divisorio È questo Con questi pua Sempre plastificato Qui ho fatto Una pagina di vellum Con le fatine E poi ho inserito E poi ho inserito Dei fogli bianchi In fondo Ho messo Vabbè c'è la solita tascona E ho inserito Dei fogli di scorta Che sono appunto Delle settimane In più In più E dei fogli bianchi Inoltre le ho messo Come omaggio Questo Foglietto di stickers Con le faccine Con le emoji E poi la penna Che ho inserito Nel pen loop È questa Con il diamantone Sul toni dell'azzurro Che secondo me Ci stava bene Che si apre Sempre girandola E niente Poi si chiude E niente Questa è l'agenda Quindi che ho creato A tema fatine Per la figlia Del mio collega Che anche lei È una carta pazza Che sta crescendo Appunto Carto pazza Sono molto contenta Di questa cosa E niente Se vi è piaciuto Questa ultima mia creazione Lasciatemi un bel like Con un bel pollice in su Lasciatemi un commento Così io capisco Che cosa ne pensate E niente Vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.